Al di là di far asciugare il campo, in queste ultime partite forse è un po' davvero il leader tra virgolette e silenzio della squadra, nel senso l'ultimo quattro, si dà un palla a lui, sono schiacciati i Johnson, le sue giocate, Washington, però in queste ultime partite è stato davvero determinante. Sì, mi riallaccio alla dichiarazione di prima, questo è un gruppo di ragazzi disponibili. È vero che Brad è decisivo, Washington ha fatto due o tre giocate di submetà, è decisivo quanto le giocate di Brad, non so, la bomba da tre punti di Kyle è stato un tiro determinante sul meno 6, quindi un tiro di KJ, piuttosto che le difese di Daniel. Questo è un gruppo che ha dentro di sé la coscienza di sentirsi importanti. È questo il mio segreto. Quando ti senti importante puoi anche stare 6 minuti senza fare niente, ma sai che arriverà il tuo momento. La mia sensazione è che loro si rendono conto, i ragazzi tutti, si rendono conto di essere importanti per questa nostra squadra, quindi aspettano senza ansia il loro turno e poi sono decisivi il loro modo. Brad è chiaro, è il playmaker. È chiaro che è un giocatore di grande personalità, anche se silenziosa, non appariscente. E' ovvio, il ruolo del playmaker è a in situ questo tipo di personalità, se no non sei un world playmaker. Grazie. Grazie.